Allora dove andiamo? Facciamo questa stradina qua, è Luciano che conosce la meta, poi facciamo la strada, arrivato a questo punto qui, facciamo tutto questo taglio, andiamo a questo piano del gioco, poi arriviamo al primo lago sulla sulla destra, il piccolo, il lago blu, poi facciamo il lago grande. E avanti, fa ad apri pista e qui dietro vi compari Carla, Michele. Adesso facciamo la pausa, merenda. Funtana a Sette Laghi, esce da lì sotto la roccia. Un po' così la giornata. 2210 metri, abbiamo fatto mille metri, abbiamo fatto no, 800 metri, ne restano 200. Siamo in vetta. Infiniti spazi, profondissima quiete e sovrumani silenzio. Un po' così la giornata. Finito il pranzo. ci stiamo vestendo perché fa un freddo becco se avete qualcosa di furgo da dire ho mangiato metto panino di formaggio vestiti e tutto quello che avevo messo addosso sono traficando per coprirsi le gambe adesso vestiti come sai fare inizia la discesa pioggia e vento la bufera ecco michele che arranca giù back Buongiorno! 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 Buongiorno!